Buona domenica Buona domenica Buona domenica Buona domenica Buona domenica Siamo partiti in sprint Siamo pronti per andare in onda Con il primo brano musicale Ce l'offre un'orchestra Ce l'offre un'orchestra locale Molto conosciuta I New Jaguars Per i quali voi avete scritto Numerosissimi Noi li abbiamo invitati in studio Siamo pronti per mandarveli in onda I New Jaguars Grazie a tutti